Madre Liliana del Paradiso ci dice che la vera purezza fa spazio allo Spirito Santo che abita in lui. E davvero la Mamma Celeste, la Regina di Gigi, ci aiuta a vivere una vita secondo lo Spirito. Ci insegna a innalzare le vere della fragile imbarcazione della nostra vita al vento impetuoso dello Spirito e lasciare che sia lui a guidarla. Di quali meraviglie dell'amore divino si è testimoni quando al timone della nostra vita c'è lo Spirito Santo. Quali miracoli di consumismo ridimensionato e di spiritualità incrementata, di conflittualità superata e di fraternità ritrovata, di egoismi annientati e di solidarietà cortivata, di tristezza sgominata e di gioia ritrovata si realizzano nelle persone e nelle comunità. Che pace, che gioia, che libertà si sfriggionano nei nostri cuori vuoti del nostro io e per questo ricchi di Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, Santa Testa della Regina di Gigi e Dio vi benedica sempre.